Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, secondo unboxing delle card Harry Potter ed Animali Fantastici della collezione realizzata dalla Conad. Ecco qui altri quattro pacchetti da spacchettare, ovviamente. Partiamo subito e poi mettiamo le card insieme all'interno dell'album del raccoglitore. Allora, vediamo un po'. Quattro card per pacchetto, ok partiamo bene, ci manca, ottimo, anche questa, anche questa, il bollibro e snaso. Conclude questo pacchetto, andiamo avanti. Allora, ci manca, vige anche, Dobby anche, bellissimo Dobby, altro personaggio spettacolare di Harry Potter. E poi concludiamo con un doppione, però vabbè, ci sta, può succedere, può capitare. Fa parte del gioco. Vai. Ginny ci manca. Dolores anche, il boccino d'oro anche. Tuona lato anche, bene. Eh, fino adesso ragazzi, è andata di lusso, eh, devo dire, fino adesso è andata di lusso. Ultimo pacchetto di questo video. Voi iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i video su questa collezione, ma per non perdervi tutti i video sulle figurine in generale, sulle card, Yu-Gi-Oh! Pokémon, eccetera. Per non perdervi tutti i video sui videogames. Per non perdervi tutti i video sulle action figure, sulle sorpresine kinder e delle altre marche, del passato e del presente. Per non perdervi tutti i video sui libri, sugli anime, i cartoni animati. E tanto, tanto altro ancora. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. È fondamentale ragazzi, fondamentale per non perdervi nessun contenuto. E avrete accesso veramente a tanti, tanti contenuti. Bandiera del tasso rosso ci manca, bene, la bacchetta di Harry pure. Quindi anche questo pacchetto alla fine, devo dire, è stato un grande pacchetto. Quattro su quattro. Adesso andiamo a mettere insieme le card nel raccoglitore. Allora, per prima cosa, dividiamola per categorie. Vedete qui c'è scritto il Quidditch, le cami eterni. Le mettiamo tutte da una parte. Così quando scorriamo l'album, ad ogni categoria ci fermiamo e mettiamo dentro le card. Primi amori, il tesoro del sapere, però questo è doppione, però lo controlliamo per sicurezza. Affetti inaspettati non c'è. Fetti inaspettati. Un nuovo inizio c'è. C'è un nuovo inizio? No. I primi amori l'avevo visto. Eccolo qua. Il Quidditch sì, il Quidditch sì. E poi il cappello parlante. Allora. Adesso facciamo così. Tac, tac, tac. Tac. Anche qui dice la categoria più corposa di oggi. Allora. Partiamo. Allora. C'è, ce l'abbiamo? Sì, mi pare di sì, sì, c'è il Vige. Allora, numero 5, vedete? Quindi scorriamo, a parte che possiamo farci aiutare anche dalle immagini. E mettiamo il Vige al suo posto. Eccola qua. Bene. Proseguiamo. Il cappello parlante, sì, c'è il logo 7 verde, che è il numero 6. Eccolo qui. Bene. E anche questo è fatto. Poi il Quidditch, la categoria più corposa. Allora, abbiamo la numero 6. La numero 5, quindi seconda pagina. Pagina numero 2, numero 4, prima pagina. Vai. Forse è meglio di qui. Sì, è un po' scomodo metterle così le card, però, che dobbiamo fare? Allora, numero 5. E adesso avete scoperto anche, mettendo questa carta, è perché non bisogna alzare tutti e quattro gli angoli. Vedete? Perché dietro dovete lasciare spazio per infilare l'altra carta. 6, tasso rosso, vai. Una sudata mettere queste card. Poi, Quidditch è finito. Cosa abbiamo? Magiche amicizie. Cioè, sì. Numero 3. Numero 3. Tac. E tac. Affetti inaspettati? Sì, ne abbiamo due. Bene. Dentro anche questa. Poi, in lotta per la giustizia, sì, c'è la numero 3. No. Ok. Quindi qua. Eccola qui. I primi amori, sì, ci sono. Botta la camera, come sempre. Eccola qui. Ok. Sentire qualche rumore di sottofondo, sono quelli di sopra che stanno facendo pulizie. Un nuovo inizio. Sì, abbiamo una card, la numero 5. La numero 5. E controlliamo adesso se quello è doppione. Ma io credo di sì. Sono quasi sicuro che lo è. Il tesoro del sapere. Ecco qua. Il tesoro del sapere, sì. Doppione. Poi, legami eterni. Abbiamo la 4. Eccola qua. E la 6. E la 6. Bene. Bene ragazzi, si conclude qui questo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace a questo video, commentate questo video, condividete questo video, seguitemi anche sugli altri social e seguitemi anche, o meglio, iscrivetevi anche ai miei altri canali YouTube dove tratto argomenti diversi da quelli trattati qui su The Golden Eagle. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!